boh salve ragazze benvenute nel micesso eccoci qua eccoci a qua nuovo tutorial questa volta in stile halloween allora vi spiego sembro la maga del voodoo vi spiego ho visto su alcuni canali che ci sono state delle ragazze che hanno iniziato a fare tutorial di make up riguardanti è lui ognuno ha riproporso come tutti gli anni una cosina un po più particolare per in stile macrabo in stile tutto si sa va beh halloween è un po così io di solito sempre fatto poi magari nell'info box di questo di questo video vi lascio tutti i make up di di halloween stile halloween che ho fatto il mio primo esempio di di trucco di halloween ho voluto fare una cosina un pochino diversa in stile molto fumettistico una strega un mago come volete definirlo non lo so nemmeno io con un po di fantasia ho visto qualche cosina qui e qualche cosina la su google e per fa una cosina nuova magari una cosina che non non è stata sempre rivista e stile c'è i teschi quelli li messi anni della morte li come si chiamano io non so tanto bravo queste cose ragazzi però ecco mi piaceva fa una cosina diversa e ho voluto riproporre questa niente ragazzi io spero che vi piaccia spero di esservi stata utile nel mio nella mia prima dimostrazione di di halloween e eventualmente se vi piace che mi commentate vi piace il video vi vi faccio altri altri esempi insomma per adesso vi saluto vi bacio ciao belli alla prossima ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.